Musica E hanno fatto sto pasticcio col Milan Il pasticcio nel senso che l'ha fatto l'Inter secondo me Per il quale adesso per farla breve Pazzini ha un valore E Cassano lo deve regalare Allora cos'hai barattato? Una roba che Un albiro col telefonino hai barattato No? L'albiro vale un euro, il telefonino vale 300 Lui non capisce Perché quando faccio gli esempi lui non capisce E batte Si dà un pugno in testa Perché? Che cosa? Perché?